Presentato a Castellabate presso Villa Matarazzo, il libro Giornalismo che passione, curato da Giuseppe Ianni. Il volume raccoglie atti, giornalisti premiati, foto, giurie, motivazioni e testimonianze di uomini di cultura dei dieci anni del premio di giornalismo Giuseppe Ripa. Alla serata di presentazione si sono alternati negli interventi Ottavio Lucarelli, presidente ordine giornalisti della Campania, il senatore Alfonso Andria, Paolo Romano, giornalista, Genaro Malzone, scrittore, Giuseppe Galzerano, editore, Giuseppe Ianni. Dieci anni di impegno passionale per parlare di giornalismo in ogni sua forma, dalla carta stampata, televisiva, radiofonica, dove un comitato organizzativo ed una giuria hanno lavorato intensamente per parlare del mondo dell'informazione e di uomini che hanno fatto di questa professione una missione. E tutto questo in nome di Giuseppe Ripa, il giornalista cilentano di Castellabate che per oltre 50 anni onorò la carta stampata con dedizione e profondo attaccamento professionale. Così il premio di giornalismo Giuseppe Ripa, giunto felicemente alla decima edizione, ha vissuto una lunga stagione di dialoghi in cui i grandi firme del giornalismo professionistico hanno onorato l'albo dei premiati, un impegno questo portato avanti dall'Associazione Artistico-Culturale Giuseppe Ripa, dove i componenti in dieci anni hanno profuso energie importanti per la buona riuscita del premio.